Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri lettera di condolianze di Bashar al-Assad al suo omologo Vladimir Putin per l'abbattimento accidentale di un aereo da guerra russo avvenuto lunedì scorso in Siria da parte di un missile della contraerea di Damasco a causa di quattro F-16 israeliani che si erano nascosti mentre attaccavano target siriani dietro il mezzo del Cremlino per non essere colpiti. Il RAIS ha attribuito la paternità dell'accaduto all'esercito di Benjamin Netanyahu. Duro messaggio su Twitter intanto anche dell'ambasciata russa in Israele. Mosca comunica che adotterà tutte le misure necessarie per rimuovere ogni minaccia alla sicurezza dei propri militari. E' giunto intanto nella capitale russa il comandante dell'aviazione israeliana per fornire i dettagli su quanto è accaduto tre giorni fa nei pressi di Latakia e collaborare così nelle indagini. Veniamo in Italia, attimi di paura ieri a Roma. Un'auto ha travolto alcuni turisti polacchi attorno alle 20.30 in via della conciliazione nei pressi di San Pietro. Il conducente della Renault Clio ha perso il controllo del proprio mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia, investendo quattro persone che ha subito soccorso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Bambino Gesù della capitale e non sono in pericolo di vita. La questura ha definito l'accaduto un incidente, escludendo così l'ipotesi del terrorismo. Inizio positivo di giornata per Piazza Affari. L'indice Fuzzimib della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni odierne, segnando un lieve rialzo dello 0,07% a 21.294 punti. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Re Asi.